Il centro storico di Torre del Greco abbraccia l'arte. Da giovedì 15 a sabato 24 ottobre le vetrine dei negozi di via Roma e di via Salvatornoto si arricchiscono di dipinti. Il progetto ha come titolo Arte in vetrina e nasce dall'unione dell'ASCOM di Torre del Greco e dei due artisti torresi Ciro Adrian Ciavolino e Simone Oliviero. Un importante evento che punta al rilancio economico della città di Torre del Greco. Come è nato questo progetto? In effetti questo progetto è nato da una serie di iniziative che l'ASCOM ha messo in campo per cercare di smuovere un po' con l'economia. Di comune accordo col concerto e col patrocino dell'amministrazione comunale abbiamo pensato di organizzare per le strade di Torre del Greco, abbiamo cominciato adesso con via Roma ma pensiamo di allergare questa manifestazione anche in altre strade e allestendo le vetrine di cultura d'arte e assieme all'arte il cittadino passeggia ed è un motivo per lo shopping serale o mattutino. Un'altra iniziativa che l'ASCOM mette in campo per dare un contributo e per risolvere l'economia di Torre del Greco? Manteniamo informati tutti i nostri associati su tutti i vari decreti ministeriali e regionali, facciamo da tramite con la regione, interveniamo con la regione quando si tratta di cercare di lenire un poco i rigori dei provvedimenti che pigliano i nostri governanti, ma più di questo per adesso non riusciamo a fare. È stata un'idea nata soprattutto per rilanciare un po' il commercio perché noi comunque siamo convinti che nel rispetto delle regole si possa andare avanti anche economicamente, evitando crack fidanziari o situazioni del genere. Ci piaceva l'idea, abbiamo portato questa idea a Torre del Greco. Se dovesse funzionare speriamo poi di ripeterla anche in grande. Cosa rappresentano le opere? Sia io che il maestro Ciavolino abbiamo fatto sia delle figure che dei panorami. I panorami in linea di massima sono i panorami nostrani, quindi insomma dal Vesuvio ai camaldoli di Torre del Greco e per quanto riguarda le figure abbiamo insomma delle figure ad esempio come le quattro stagioni fatte dal maestro Ciavolino oppure insomma nel segno del serpente alcune figure femminili che ho fatto io e diciamo io e lui abbiamo degli stili un po' diversi perché lui ha uno stile un po' più classico mentre io uno stile un po' più contemporaneo e quindi diciamo c'è stata anche questa commistione generazionale che ci piaceva anche portare in vetrina. Speriamo che dia risultati importanti perché poi avere maestro come professore Ciavolino è un piacere e un onore per Torre del Greco. Ha fatto la storia di Torre del Greco, non solo lui ma tutta la sua famiglia, quindi per noi è un onore ospitare queste cose. Com'è nato questo progetto, questa unione con l'ASCOM? È nato da un'idea del professore perché lui nonostante l'età è ancora molto attivo e quindi a noi ha fatto piacere ospitare i suoi quadri e quindi penso che è una collaborazione con l'ASCOM e Ciavolino che può dare dei frutti importanti per Torre del Greco. Iniziativa promossa anche dall'amministrazione comunale. Nonostante le difficoltà, questo evento può risollevare l'economia del territorio, ha affermato l'assessore alla cultura e gli eventi Enrico Pensati. Corre l'obbligo di precisare e di ringraziare l'ASCOM che ha fortemente voluto questa iniziativa. è davvero bello mettere insieme quello che è il teatro naturale, il commercio naturale di questa città in un luogo particolarmente significativo per lo shopping con la vocazione artistica che questa città ha sempre mostrato di avere. In vetrina abbiamo un artista emergente come la signora Oliviero e un maestro storico della pittura come Ciro Adrian Ciavolino. Quindi un'idea sinceramente fantastica che ci riempie di orgoglio e quindi il merito va sicuramente ed esclusivamente all'ASCOM di Torre del Greco.